Buongiorno mondo, oggi finalmente anche per me cominciano le ferie si va in vacanza finalmente sono qui a Gallarate e sto aspettando Sara e Cristian che mi raggiungeranno e poi via verso la Spezia dove ci attende la nostra barca vila adesso me ne vado un po' a fare colazione, sto aspettando appunto che apra il bar e a presto buongiorno, qua si documenta tutto prendi la carriola, prendi la carriola pronti per andare a far cambusa ok abbiamo fatto cambusa, adesso passeremo la serata qua in porto perché è proprio brutto, sta arrivando il temporalone quindi partiremo stanotte verso le 5 o le 6 della mattina anzi domani mattina stiamo a studiando un po' bravo bravo, studia, studia buongiorno sono le 5 e 20 adesso stiamo per salpare c'è ancora un po' di nuvolagli a qualche temporale in giro adesso punteremo verso Caprera e ci aspettano 12-13 ore di navigazione alle 5 e 6 di questo pomeriggio vedremo un po' dove siamo e decideremo se fermarci all'isola d'Eboa oppure puntare e fare la notturna verso la Corsica e vedremo le visioni si riesce a capire cosa dobbiamo fare vediamo varie possibilità tecniche che la tecnologia al giorno d'oggi ci mette a disposizione fina questo qua è bruttissimo ancora non è qua a 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 chi è che ci sta passando avanti? a 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 il nostro il nostro sailing trip diareggio sono in onda? ok questa fermata non era programmata nell' itinerario originario però per caso di Porta Maggiore la Sara ha sboccato la sottoscritta e un temporane che continuava a girare e siamo finiti qua ecco se venite qui non andate nei panni a 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